Come sempre dirò una cosa molto fantagiosa che non si sente quasi mai dire. Abbiamo costruito una lista, una squadra che è fatta di continuità e anche di nuove risorse in termini di entusiasmo, in termini di volontà, di disponibilità. E questo è sempre importante, avere un ricambio è sempre molto molto utile, diciamo così. Però mi prendo questo piccolo momento per innanzitutto ringraziare le persone, le singole persone che si mettono a disposizione. Voglio ringraziare Daniela, voglio ringraziare Olga, voglio ringraziare Eleon, voglio ringraziare Walter, voglio ringraziare Giuseppe, voglio ringraziare Giulio, voglio ringraziare Paolo Abbadini e Paolo Varischetti, voglio ringraziare Fabio e Augusto. Perché poi le azioni amministrative, gli obiettivi li vedremo, se ne potrà parlare, verranno sviluppati, ma poi insomma tutto corre sul cuore e sulla testa di queste persone. E avere 11 persone che mettono a disposizione se stessi per la propria comunità, in modo assolutamente gratuito e disinteressato, che lo sia davvero davvero molto importante. È chiaro che non si può sviluppare tutto il programma presentato in questo momento, ma certamente è una continuità sotto alcuni aspetti e anche qualche rinnovamento in più sotto altri. È chiaro che un piccolo paese come Gorno dipende molto dal contesto generale, lo abbiamo visto e sperimentato in questi cinque anni, perché l'esperienza di questi cinque anni è davvero molto, molto diversa da esperienze precedenti. Quindi chiaramente si continuerà con una gestione del bilancio, perché poi i soldi sono importanti, assolutamente oculata, seria, fatta di grande attenzione e concentrazione. Sarà ovviamente impostato molto, c'è una nuova riforma sanitaria in Lombardia, è un aspetto sul quale alcuni sorvolano, ma è di un'importanza straordinaria, perché coniuga il sanitario, il socio-sanitario, il sociale, che è normalmente a pannaggio dei renti locali. Ma il nostro ruolo sarà importante in questa nuova riforma, quindi sarà una cosa di grande importanza. Ovviamente l'istruzione è sempre con grande attenzione. Inutile dire che il territorio avrà la massima priorità, compatibilmente con le risorse date, naturalmente, e quelle che saremo in grado di reperire, ovviamente. E questa continuità ci piacerebbe davvero portarla, perché con il bilancio di quest'anno abbiamo cominciato a tagliare le tasse, è una di quelle cose che ci piacerebbe davvero molto fare. E' chiaro che questo è frutto di un taglio forte dell'indebitamento dell'ente, debiti che non sono soltanto i mutui, per esempio in questi anni abbiamo dovuto, come dire, anche un po' far fronte a qualche debito fuori bilancio, a cui abbiamo dovuto porre un po' di ripiego, che si sono aggiunti ovviamente a tutto il resto. Ma a grado di questo, sul finale, siamo riusciti ancora a tagliare le tasse. E' una di quelle cose che credo possa essere toccato con mano da ogni singolo cittadino. E' chiaro che ogni dato che viene sfornato è un dato ufficiale, che si trova nei bilanci del Comune, bisogna leggerli, ovviamente, i bilanci. Capisco che per i cittadini possa essere a volte un po' difficoltoso e un po' astruso. C'è una cosa che però può fare ogni singolo cittadino, per comprendere anche se, come dire, la credibilità di chi parla e comunque del gruppo è certa. E potrà ogni singolo cittadino, per esempio, sull'Atari, arriverà a casa l'F24, lì ci sono dei numeri, delle cifre, che a parità di condizioni rispetto all'anno scorso, ognuno potrà fare una verifica personale. Non avrà bisogno di andare a prendere atti comunali, piuttosto che cose strane. Lì gli arriva a casa. Il confronto lo facciano. Ogni singolo cittadino e sarà in grado di fare le valutazioni sulla credibilità di questa amministrazione, peraltro. Oltre a ciò, naturalmente, c'è il progetto delle miniere. I due filoni, quello di recupero a scopo turistico, culturale, storico, naturalmente, del patrimonio minerale dismesso, che abbiamo acquisito attraverso, insomma, il demanio, e la questione industriale, l'asfruttamento industriale delle miniere. Questi due aspetti portano comunque con loro, sottolineano in assoluto, la questione più importante, sulla quale avremo, abbiamo avuto, abbiamo, e avremo la massima attenzione, che è quella della occupazione. e attenzione il grasso a volte, che è la che non è la Quamellick, la quale avremo, e che è la che è la quale avremo, e che è la quale avremo,